Questo segue una campagna di ricerca di sponsor già avviata lo scorso anno, perché in qualche modo il management del teatro della fondazione è stato anche sollecitato dai soci fondatori a attivare dei percorsi virtuosi per partecipare il territorio all'attività della fondazione. Oggi siamo alla presenza di un'importante banca privata che un accordo triennale contribuirà in modo notevole alle attività della fondazione. È un momento importante di apertura non soltanto al territorio, ma anche di apertura alle grandi organizzazioni finanziarie che in qualche modo possono consentire e favorire la crescita della fondazione.